Ho scelto di candidarmi perché voglio essere utile alla città che mi ha dato i Natali e che amo visceralmente. La voglia di mettere il mio tempo e la mia professionalità al servizio del mio paese, per aiutarla a uscire dalla paludia amministrativa ed economica nella quale è stato relegato da troppi anni, mi ha spinto a presentarmi al giudizio dei miei concittadini, la contea di Mascali, la sua storia, i suoi insediamenti, le sue zone collinari, il suo mare, l'Etna, offrono una serie variegata di paesaggi che non teme confronti. Tale immensa bellezza, concessaci da madre natura, è stata mortificata da scelte miopi e di cortile che le hanno tarpato le ali per tanto, troppo tempo. Riscoprire il carisma e l'egemonia della contea di Mascali, dei tempi che furono, pur nella consapevolezza delle difficoltà e delle responsabilità di questa missione, l'amore per Mascali mi spingono verso questa scelta. Voglio lavorare insieme ai giovani, alle attività economiche e turistiche del nostro territorio, insieme a voi mascalesi, per costruire un futuro per la nostra città. Per l'amore che ho per Mascali, rinuncerò alla mia indennità di carica, che destinerò alla realizzazione di opere pubbliche a favore della mia città. Metterò il mio impegno e il mio amore a disposizione del mio paese senza condizioni e senza vingoli, con dedizione e passione, perché Mascali merita il meglio. Insieme possiamo farcela, con amore per Mascali.